Il Partito Democratico risponde alle affermazioni di qualche giorno fa del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale a Gela. Che cosa ha replicato? Innanzitutto è che il duo messenese siciliano è un prodotto dei 5 Stelle. Quindi se oggi Gela si trova in queste condizioni, risultati scadendo sotto qualsiasi punto di vista, la responsabilità è da debitare sicuramente ai 5 Stelle e quindi si dovrebbe soltanto loro vergognare, chiedere scusa alla città, assieme a questa amministrazione, per i danni che stanno producendo al nostro territorio. Ritengono che il Partito Democratico stia sostenendo la giunta messinese? Ma completamente, è la riprova, la linea che stiamo tenendo di netta e ferma posizione con riferimento al Consiglio 2016. Il Partito Democratico è un grande partito che sta discutendo al proprio interno un percorso che porterà alla costruzione di un programma e noi non presentiamo le mozioni di sfiducia per fare campagna elettorale, ma le presenteremo in un momento opportuno e vi assicuro che siamo più convinti di qualche altra forza politica che ha già presentato la mozione di sfiducia di mandare a casa questa amministrazione comunale. È chiaro che è una città che mira a mantenere una popolazione di 80.000 abitanti e non può fare meno dell'industria, un'industria ecocompatibile, ma è chiaro, basta leggere la stamba, basta andare alle conferenze programmatiche, che questa amministrazione comunale non ha la forza, non ha il peso politico per portare avanti le linee di sviluppo indicate in quel protocollo di indese, che già di per sé tratta di un protocollo inadeguato a mantenere i vecchi livelli occupazionali, ma poi noi notiamo che ci sono ritardi sotto tutti i punti di vista e questo perché questa amministrazione ha la testardaggine di credere di essere autosufficiente. Noi riteniamo che bisogna lavorare come centro-sinistra e come PD già ci stiamo riunendo, anche in profonda estate, per creare un'alternativa e mandare a casa prima possibile questa amministrazione comunale.